ciao a tutti questo è un breve video dove volevo farvi vedere qual è il mio progetto ideato per voi avevo fatto un post sulla community che vi invito ad andare a leggere e vi volevo far vedere l'idea che mi è venuta appunto per voi questa è una prova fatta con la mia iniziale e con una frase diciamo che io sento proprio per me e queste sono delle stampe molto particolari che possono essere fatte personalizzate a vostra richiesta o con l'iniziale o con la data di nascita o con il segno zodiacale come volete voi e sono in diversi formati come potete vedere questa è in a4 questa in a3 e poi c'è anche la stampa che può essere fatta in a2 ed è la misura per fare un poster queste qui non sono delle semplici stampe c'è una stampa certo con i vostri simboli le vostre iniziali quello che più vi piace è una frase che verrà scelta dal mio mazzo la bellezza della vita sempre per voi questo mazzo qua oppure presa da uno dei miei libri sempre dedicata a voi scelta casualmente oppure anche scelta da voi se voi volete un qualcosa di personale e poi sono caricate energeticamente in base alle vostre richieste se sono richieste che riguardano il lavoro che riguardano la fortuna oppure che riguardano semplicemente una pulizia energetica per quanto riguarda la vostra persona ho ideato questo progetto appunto perché a voi rimanga un qualcosa che sia tangibile e che voi possiate vedere ogni giorno chi volesse una stampa del genere mandata in modo digitale nel senso io preparo la stampa in base alle vostre richieste e poi magari si può fare tramite whatsapp oppure tramite mail e verrà mandata a voi sempre questo vale come una sorta di consulto perciò chi fosse interessato a sapere il prezzo di una stampa del genere perché io la mando in modo digitale e poi voi la potete far stampare su un foglio normale la potete far stampare su tela la potete far stampare su stoffa la potete far stampare dove volete questo è la stampa è a carico vostro per sapere il prezzo di questa stampa perché dietro alla stampa appunto c'è un lavoro energetico che viene fatto questo è un piccolo dono diciamo la stampa è un lavoro che viene fatto appunto perché a voi rimanga un qualcosa di tangibile un qualcosa che voi possiate vedere del lavoro energetico che viene fatto dietro e chi volesse una stampa del genere o volesse semplicemente informazioni sul sul costo di una stampa perché ogni stampa in base alla alla grandezza ha un costo diverso perché appunto c'è una risoluzione diversa per questo c'è un un compenso giustamente perché dietro un lavoro del genere c'è il tempo c'è appunto la ricerca delle vostre richieste e c'è appunto la come dire lo studio anche della frase in base a quello che voi volete chi volesse sapere informazioni più approfondite su questo lavoro energetico può contattarmi agli al numero whatsapp o all'indirizzo di posta elettronica che vede giù e io darò tutte le informazioni del caso sono dei lavori vedete molto carini molto semplici però come ripeto dietro c'è un lavoro energetico che viene fatto su prenotazione mi raccomando su prenotazione niente con questo io vi saluto vi ringrazio dell'attenzione sempre che mi date in ogni mia diciamo idea che mi viene mi viene fuori ciao a tutti benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato a tutti coloro che sono nati il 25 febbraio del 1968 io ringrazio julia che mi ha dato la possibilità di fare questo video vi ricordo che potete lasciarmi tramite commento il vostro nome data di nascita dovete semplicemente aspettare la messa online sul canale vi ricordo pure che chi volesse un approfondimento maggiore per quanto riguarda la sua nata numero di numero di destino e tante altre particolarità vi ricordo che può scrivermi in privato tramite i miei contatti e chiedere un consulto per quanto riguarda la data di nascita oppure un consulto tarologico e niente iniziamo subito con vedere curiosità e caratteristiche per quanto riguarda il giorno di nascita vi ricordo che chiunque si ritrovi in questa data può ascoltare tranquillamente benissimo andiamo a vedere il 25 febbraio è il giorno della nobile causa sebbene nati il 25 febbraio si possano si possano spesso definire individui formidabili riescono a esprimere totalmente il loro potenziale solamente quando possono dare il meglio di sé per una causa più grande di loro caratterizzati da una notevole fiducia in se stessi e da un forte amor proprio essi sono tuttavia convinti del fatto che gli obiettivi universali siano di gran lunga più significativi di quelli personali e oltretutto hanno la sensazione che se si impegnano in una nobile causa il primo potere non potrà che risultarne amplificato non di rado giungono a una situazione di conflitto con loro con coloro che li circondano e certamente non sorprende affatto che abbiano un atteggiamento piuttosto critico nei confronti dei costumi sociali poiché vedono la società sempre in preda a tumulti e cambiamenti e magari pensano che non valga proprio la pena di impegnarvisi seriamente come figli si dimostrano spesso decisamente ribelli verso i genitori o verso altre figure rappresentanti l'autorità e reagiscono emotivamente dinnanzi a quello che sentono essere ingiusto anche l'adolescenza e i primi anni dell'età adulta possono essere alquanto tormentati infatti è assai frequente che queste persone non riescano a raggiungere la serenità interiore fino alla maturità tra i 30 e i 40 anni in genere tendono ad approfondire il primo impegno in un interesse per cui valga la pena lavorare come per esempio l'arte la filosofia la religione oppure a creare un'immagine ideale dell'umanità di come potrebbe essere se tutto fosse perfetto una volta che si sentono presi da tale interesse vi dedicano tempo e lavoro sempre crescenti a livello pubblico privato in entrambi o in entrambi tuttavia la situazione è molto più positiva quando riescono a non staccarsi completamente dalla vita che conducevano precedentemente ma sono invece capaci di partire da essa per costruirci sopra in maniera organica e positiva. I nati in questo giorno non hanno tempo da perdere con le questioni mediocre o insignificanti di qualunque genere in alcuni casi tengono a mostrare un comportamento regale facendo ogni cosa con molta enfasi senza tuttavia risultare né mai né paternalistici né elitari. I più fortunati riescono a comunicare al prossimo gli elevati ideali e alla grande determinazione che possiedono mentre i meno evoluti potrebbero non riuscire a convincere gli altri della loro buona fede venendo così accusati di proselitismo e presunzione. Il successo quindi la felicità di quest'individuo è spesso direttamente proporzionale alla capacità di entrare in comunicazione con gli altri senza suscitare antagonismo. Nei casi peggiori arrivano a sentirsi incompresi e fraintesi e perciò cadono nell'autocommiserazione e nella depressione. Generalmente per i nati il 25 febbraio è molto più importante dare che ricevere. Essi devono però capire che talvolta le persone alle quali fanno tali doni non sono affatto ansiose di averli. In questi casi finiscono per soffrirne profondamente perché si sentono respinti. Se al contrario riuscissero a essere un po' più forti e accettare la logica dello scambio reciproco avrebbero un approccio senz'altro più adatto e riuscirebbero a rapportarsi agli altri in maniera decisamente più positiva. Adesso vediamo qualcosa legata al segno. Allora questa data rappresenta i pesci di prima decade e andiamo a vedere. Personalità dei pesci di prima decade. Molti dei nati in pesci prima credono nella supremazia dello spirito sulla materia e perciò spesso si dedicano a cause e attività importate da un grande idealismo improntate scusate. Qualche volta mostrano addirittura una sorta di non curanza per il mondo materiale in modo particolare per ciò che concerne il lavoro. In effetti molti pesci del primo periodo nutrono un interesse davvero entusiastico per tutti gli aspetti non materiali della vita, la vita delle idee, della musica, dell'arte e del movimento. È possibile che le loro convinzioni abbiano un carattere religioso oppure che essi siano dei panteisti che vedono Dio ovunque anche se magari non si sottomettono all'autorità di una chiesa, di un tempio o di una moschea. Oppure ancora il loro senso di devozione può rivolgersi alla sfera lavorativa, alla famiglia o agli hobby che in effetti spesso hanno meno l'aspetto di un passatempo o di quello di un'occupazione che coinvolge tutto il loro essere. È piuttosto difficile trovare uno sfrenato egoista o egocentrico tra i nati in questo periodo poiché anche loro che si dedicano completamente alla carriera e al proprio sviluppo lo fanno sempre con l'aria di chi serve una causa più elevata. Eppure i pesci del primo periodo possono anche essere freddi e distaccati e mostrarsi preoccupati solo dalla propria affermazione o dall'importanza dei propri progetti, cosa che talvolta si traduce in una tendenza a trascurare famiglia e amici. Qualche volta assumono addirittura un'aria di infallibilità, un atteggiamento da io sono meglio di te o io so tutto che non di rado finisce per demoralizzare o irritare chi sta al loro accanto. Molti dei pesci del primo periodo hanno una visione sorprendentemente realistica della vita in tutti i suoi molteplici aspetti. I loro interessi spaziano sull'intera gamma dello scibile umano, delle questioni pratiche della vita quotidiana ai limiti estremi del cosmo. In effetti essi spesso si considerano la spiritualità come qualcosa di lontano, una specie di sogno, ma come un modo più illuminato e consapevole di fare i conti con il qui e ora. I consigli. Talvolta avreste bisogno di essere meno aggressivi, mantenete vivo il contatto con le questioni di ogni giorno e fate attenzione alle vostre esigenze e a quelle altrui, altrimenti attenti a non esternarvi a forza di mettervi su un piedistallo, mirare a un maggior livello di consapevolezza non significa necessariamente dimenticare le incombenze quotidiane. Benissimo, adesso andiamo a vedere con i miei dadi qual è l'oracolo che viene fuori per questa data di nascita. Vediamo l'oracolo che viene fuori per chi è nato il 25 febbraio del 1968. Allora abbiamo 5, 10, 13, 16, 19, 20, 26, 30, abbiamo 33. Vediamo qual è l'oracolo numero 33 che viene fuori per i nostri amici. Abbiamo la scatola. Se hai estratto questo oracolo è ora che tu esca fuori dalla scatola dove ti sei infilato, nascosto, celato. La scatola dove hai creduto di poterti mettere nascondendoti in difesa di ogni cosa. Così facendo ti sei chiuso al ricevere, anche da te stesso e tutto intorno a te. E' arrivato il momento di uscire fuori e goderti la realtà di chi sei veramente, esci fuori dalla scatola. Questo è tutto quello che abbiamo detto per quanto riguarda chi è nato il 25 febbraio 1968. Io ringrazio Giulia che mi ha dato la possibilità di fare questo video. Vi aspetto con altri video del genere. Vi aspetto sotto nei commenti per chi volesse un video del genere e scrivetemi in privato qualora voleste qualcosa in più. Io con questo vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.